Avellino ormai è squadra che abbiamo incontrato molte volte recentemente, è considerata giustamente la squadra più forte dopo Milano per qualità di giocatori, per roster. Quindi squadra che occupa in questo momento la terza posizione della classifica, quindi anche in maniera meritata. Ci sono tutti gli ingredienti affinché sia una partita difficile e importante contro una squadra di grande qualità e quindi servirà molta attenzione su tutti i particolari come sono state del resto tutte le sfide con Avellino, siano state queste di Coppa o quelle di campionato a casa loro. Sappiamo che sarà una partita lunga, una partita fisica dove capire il ritmo potrà fare la differenza ma dove credo che i particolari sulle singole giocate dei giocatori possono essere ancora più importanti perché è una partita con giocatori di talento da tutte e due le parti. Noi giochiamo in casa, quindi veniamo da questa grande qualificazione, quindi avremo bisogno ancora una volta del nostro pubblico per prendere energie. Cambieremo ancora assetto, nel senso che al di là del rientro di Stefano che ha toccato e assaggiato il campo mercoledì ci sarà ancora Giulia, non sappiamo ancora di Batista perché stasera farà una prima parte di allenamento e quindi la decisione sarà assolutamente nel corso di questi ultimi giorni, considerato che fino ad oggi comunque non si è quasi mai allenato con la squadra. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti affinché sia una grande partita e ancora un'altra partita difficile come del resto da ora in poi, mancandone così poco, saranno tutte importanti.